La denuncia è stata formalizzata davanti ai carabinieri ieri pomeriggio, circa 24 ore dopo, l'aggressione che ha reso necessarie le cure mediche per De Giovanni Rigoli, sacerdote della parrocchia di Santo Stefano a Varapodio. L'onedì scorso il prete è stato aggredito al termine di una funzione religiosa, un funerale, da alcuni individui presenti in chiesa. Ancora da chiarire, i motivi del gesto, stando alle prime ricostruzioni, il sacerdote sarebbe stato avvicinato, privato dal cellulare e poi colpito al volto con una testata, immediato l'intervento delle forze dell'ordine, poi il trasporto all'ospedale di Gioia Tauro, dove il prelato è rimasto in stretta osservazione per diverse ore. Per Don Giovanni Rigoli sono stati esclusi traumi gravi, solo un segno sulla fronte e lo spavento per l'accaduto. La vicenda ha ovviamente generato scalpore nella comunità diocesana di Oppido Palmi. Il Vescovo, Monsignor Giuseppe Alberti, ha condannato fermamente l'aggressione ed espresso vicinanza al parroco. Siamo profondamente sconvolti da questo atto di violenza contro uno dei nostri sacerdoti. Ha affermato gli attacchi contro i membri del clero non solo colpiscono la persona coinvolta, ma feriscono anche la fede e la spiritualità della nostra comunità. Certe azioni azzerano l'impegno spirituale di ogni individuo e quando permettiamo che similazioni, prevalgono, rischiamo di invalidare la fede stessa che ci unisce. Diffusa la notizia, immediata è scattata l'onda di solidarietà da parte di sacerdoti fedeli sindaci del territorio. Il sindaco e l'amministrazione recitano a nota del primo cittadino di Varapodi o Fazzolari, esprimono vicinanza e solidarietà nei confronti del parroco Don Giovanni Rigoli e condannano fermamente l'ignobile gesto compiuto dall'aggressore. Don Giovanni è una persona speciale che si contraddistingue per la sua bontà e la sua dedizione verso la comunità varapodiese, riveste il suo ruolo con amore e altruismo, sempre attento ai problemi e alle necessità dei cittadini e disponibile verso tutti, dai più piccoli agli anziani. manifestiamo affetto al nostro parroco e gli auguriamo una pronta guarigione. Esprimo piena solidarietà al parroco Don Giovanni Rigoli. Sono mortificato per quanto accaduto e spero che l'autore si penta immediatamente e vada a chiedere scusa. Non è possibile che succedano queste cose, soprattutto all'interno della Chiesa. Mi auguro che Don Giovanni si possa rimettere al più presto e possa ritornare a guidare la nostra comunità parrocchiale. A nome mio e dell'amministrazione comunale che rappresento esprimo la piena e totale solidarietà. Sgomento è stato espresso anche dagli amministratori di Taurianova, città di origine del sacerdote, che in merito all'aggressione subita da Don Rigoli ha parlato di gesto inqualificabile. Un gesto si legge nel documento firmato da Roy Biassi, sindaco di Taurianova, che condanniamo apertamente e coralmente, facendoci anche interpreti, dell'intera comunità taurianovese che in queste ore vuole stare vicino a uno dei figli più apprezzati per la sua bontà d'animo e per il suo carisma spirituale. Andare a colpire delle istituzioni, la Chiesa, è un atto incivile e indecoroso. Ne risentiamo tutti di questa azione, è come se in un certo senso fossimo anche noi colpevoli. E anche noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità di quello che succede. perché se tutti lavoriamo bene, alla fine abbiamo dei buoni risultati e noi ci dobbiamo assumere le responsabilità di quello che succede. C'è una persona, un prete giovane che dà tutta la sua disponibilità per farsi accogliere e anche noi lo dobbiamo accogliere. E poi alla fine, quando succedono queste azioni, non so esattamente la situazione, come si è venuta a verificare, ma eventualmente è probabile che ci siano state delle incomprensioni, è probabile che poi alla fine uno non riesce a controllarsi e questo fa parte anche della persona umana. E' un gesto, solo sapete perché? Perché era un luogo tavolo e ha fatto una azione malamente per la comunità. Per la comunità? E pure per il signor Giovanni Prete. Perché è un bravo, un bravo prete? E' un bravo uomo, si è un bravo uomo, veramente rispettoso, saluta e tutti vanno saluta.